Ciao a tutti, voglio parlare in questo video della donna Estia per la rubrica tipologia di donne. La donna Estia è la donna che è dedicata, che si dedica al focolare domestico, figlia di Crono e Rea, è la dea vergine della casa del focolare, quindi è una donna che trova la sua realizzazione nella casa, nel focolare domestico, nelle realizzazioni, diciamo, legate proprio al costruire un nido, al costruire un focolare. Tutte le sue energie vengono dedicate, ad esempio, al miglioramento della casa, all'impegnarsi per avere, diciamo, una famiglia tipo mulino bianco, insomma. Ovviamente è una donna che perde spesso della sensualità, perché è spesso affaccendata, diciamo così, in faccende domestiche. Non gli importa tanto del realizzarsi verso l'esterno, ma il suo obiettivo fondamentale, quindi, è quello di realizzarsi all'interno di una famiglia. Se subisce, diciamo, ad esempio, una separazione, un divorzio, una situazione di questo genere, entra in crisi profonda, perché comunque il suo obiettivo del nucleo familiare viene messo fortemente in discussione. La disgregazione della famiglia è quella che è la sua paura, per cui spesso, come dire, temendo fortemente questo abbandono, accetta delle situazioni che non vorrebbe accettare, come ad esempio un marito che magari la tradisce, ma per lei non sono tanti importanti i tradimenti occasionali a cui non presta attenzione. È molto più negativo. Insomma, se il marito ha dieci amanti, non gli interessa. Il problema è se ne ha solo una, e se questa prende sopravvento e diventa importante. Quindi ha sempre questo tarlo che non la fa vivere di fatto felice. Bene, per questo video è tutto. Seguimi anche sul pagina Instagram Massimo Terramasco e iscriviti a questo canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!